Barcolliamo ma non molliamo. Vai! Ciao, siamo Emanuele e Marianna. Oggi vogliamo aprirti le porte della nostra casa per raccontarti di un incontro che ha portato luce là dove c'era buio. Questa storia parla di un seme, di una strada, di una voce. Questa storia è anche la tua storia. Ascolta il nostro podcast. Bentornati amici su Un Corpo mi hai dato il podcast. Io sono Emanuele. Io sono Marianna e sentite che voce squillante. Finalmente siamo risorti. Non è Pasqua, domani è Natale ma insomma noi parliamo di risurrezione perché siamo un po' morti. Sì, avete ragione. Sono due settimane che praticamente non ci sentite. Ma oggi scoprirete una cosa molto importante. Non c'è incarnazione senza croce e risurrezione. Esatto. Al contrario, perché a noi ci piace fare cosa al contrario, ragazzi, sapete. Allora questo è il podcast. Questa è la vigilia di Natale e noi vi piazziamo la quarta tappa di Tra le braccia, il nostro percorso di quest'anno che ricordiamo per chi non lo conosce o ci è conosciuto adesso. O vuole ascoltare questo podcast perché vuole sentire i nostri auguri di Natale e va benissimo. Resta lì in ascolto. Tra le braccia è il percorso di quest'anno strutturato in nove mesi come i due percorsi Amati, smetti di fare del male il tuo corpo e into the womb Amati, rinasci, donati. Trovate tutto sul nostro sito uncorpomidato.com alla pagina dei percorsi dove trovate spiegato anche un po' il motivo dei nove mesi e il perché camminiamo da settembre a giugno a tappe. E quindi questo è un terzo percorso dopo questi due che ho citato per entrare una terza volta nel mistero dell'incarnazione. Quindi proprio quello dove stiamo per entrare adesso, cioè il mistero del Natale. Infatti come Maria abbiamo ascoltato il 20 di dicembre e davanti all'angelo Gabriele compie tre passaggi per arrivare a dire il suo sì, anche noi abbiamo bisogno di tre passaggi. Questi tre percorsi sono un po' questo simbolo. Quindi è un percorso per imparare a dire il nostro sì per passare da un nostro corpo, da una nostra casa alla casa per la chiesa. Quindi il nostro corpo come casa per noi, come pane che si spezza e come chiesa. Quindi questo terzo percorso è in particolare dedicato al discernimento vocazionale per accompagnarci noi e poi accompagnare anche voi nella scoperta di quel mistero che è la nostra chiamata specifica all'interno del corpo di Cristo. Perché noi parliamo di corpo ma non solo corpo umano, soprattutto corpo di Cristo che è la chiesa. Quindi è una terza gravidanza di fatto, cioè come se avessimo fatto tre gravidanze in nove mesi, questa in particolare è la esogestazione, quindi quei nove mesi fuori dall'utero della mamma, quindi dopo la nascita e noi abbiamo la piccola Gemma che ci sta facendo da prototipo. Esatto, avete mai sentito parlare di crescita a ricciolo? Ve ne hanno mai parlato i vostri pediatri, le vostre ostetriche? Non lo so, qualcuno l'avete sentito dire questa cosa? Ma vi spiego cosa vuol dire. Vuol dire che il bambino nella sua crescita, soprattutto nelle esogestazioni visibili questa cosa, va avanti e poi torna un po' indietro, e poi di nuovo va avanti e poi torna un po' indietro. Cioè sembra sempre che ci sia ripreso questo movimento di contrazione ed espansione della gravidanza che consente di procedere nello sviluppo della vita. Ne abbiamo parlato tanto in intudeum di questa cosa, però è proprio così, è come se dovesse sempre ritrovare il nido per poi spingersi un po' più fuori, no? E anche la Gemma effettivamente sta facendo questa roba qua. La Gemma sta da un lato diventando sempre più interattiva, sempre più comunicativa, non vuole dormire perché vuole guardare, curiosare, snasuplare, come diciamo noi. Quindi ha sempre questi occhioni aperti a osservare, a capire, cioè sembra proprio che si beva la realtà con gli occhi e allo stesso tempo ha ancora più bisogno della mamma. Ha ancora più bisogno di stare con me e manifesta proprio la necessità di stare a contatto fisico, coccole e pelle pelle con la mamma. Sto realizzando adesso che effettivamente è super fisiologica, cioè funziona così. Lei più si spinge verso il mondo, più ha bisogno però in realtà di sapere che è una base sicura, un porto sicuro da cui puoi spingersi fuori, che è un po' appunto il porto nella tempesta, no? Perché il mondo è molto bello e molto interessante, ma ci sono tante cose da processare. E questa cosa succede neanche in gravidanza. Tra il primo e il secondo trimestre succede questa cosa. Allora, nel secondo trimestre cosa succede? Che è il trimestre dell'espansione, dell'andare fuori, della presentazione anche sociale, no? Della pancia, della situazione di gravidanza, no? Il bambino proprio anche si fa sentire molto di più, tanto che inizia a muoversi più meno tra le 16 e le 22 settimane, no? E la mamma inizia a sentirlo. Ecco, ancora una volta ritorno a questa cosa, che è il concetto è questo. Prima di andare verso il fuori, ho bisogno di andare dentro. Ho bisogno di andare dentro, nell'introspezione di me e quindi nel mio focus interiore per poi poter uscire nel mondo con la mia identità. Esatto, esatto. Infatti l'identità è stato proprio il cardine un po' di questo primo trimestre. Ricordavamo anche nella scorsa tappa e nel podcast che abbiamo fatto per l'Immacolata, presentando proprio un po' il passaggio nella quarta tappa e quindi nel secondo trimestre, ricordavamo appunto come l'identità, quindi dare il nome, è il punto fondamentale che chiude un po' il primo trimestre. Cioè il primo trimestre è quello dove trovi più fatica, più altalenanza, più difficoltà proprio nel vivere anche questa novità che è la gravidanza, che è appunto un bambino che ti è arrivato tra le braccia di qualsiasi attesa che stai cullando diciamo dentro di te e quindi vinta questa fatica, cioè arrivati al punto del terzo mese, il nostro Dio ci dice ti do il nome, la biologia ci dice ti do il nome, cioè alla fine del primo trimestre della gravidanza il bambino avrà il volto, avrà i genitali, avrà proprio l'identità sessuale anche che gli fa dire io sono questo qui e quindi è come se tu avessi già un anticipo di quello che sarai. Esatto, cioè il bambino a tre mesi nell'utero della mamma ha già espresso nel suo corpo come potrà donarsi nella vita, cioè l'espressione del suo amore totale sta lì, in quel volto, in quelle identità, in quei genitali, cioè non so se ci rendiamo conto, espressi esternamente, perché ce li ha fin da subito nei due cromosomi iniziali, ma in questo momento si esprimono in maniera chiara, non ci sono più dubbi su come si donerà al mondo, però non è ancora ora. Esatto, non è ancora ora, quindi è come se ci fosse un anticipo, perciò noi in questo ponte, perché adesso noi abbiamo fatto appunto il passaggio dal primo al secondo trimestre, quindi dalla terza alla quarta tappa e il Natale che domani festeggiamo è proprio il culmine di questo andare da fuori a dentro. Quindi il mistero dell'incarnazione ci parla della nostra fede, quindi che lì c'è tutto, tutta la nostra fede, cioè in un bambino che nasce, che si fa corpo, che si fa carne, e lì però ci comunica Gesù, figli Dio, ci comunica questa cosa qua, cioè che nell'andare nella piccolezza, cioè nel farsi picco, nello scendere tra di noi e in mezzo a noi e dentro di noi, ci sono in realtà tutti gli elementi essenziali per poi imparare a camminare, quindi il bambino in questo momento, quindi noi in questo momento siamo nel culmine dell'inverno, che è infatti l'introspezione. Esatto, che è appunto quello dell'inverno, cioè andare dentro nelle profondità, la natura muore, aspetta di rinascere poi in primavera, quindi noi abbiamo davanti tre mesi dove tutto il lavoro è di ritorno, ritorno dentro di te, di ritorno alle tue origini, di ritorno dentro quello che è scritto dentro di te, dove c'è già tutto e puoi già trovare degli elementi essenziali per quello che sarà la fine. C'è un sacco di lavoro, un sacco di brio, un sacco di fermento, ma è tutto nascosto, sotto, è un ritorno alle radici, alla terra, che fuori non mostra niente. Ecco, questo è quello che noi stiamo vivendo in questo momento e che ci porterà poi a fiorire. Esatto, e questa è la quarta tappa, la sapienza dell'interprete. Cosa significa? Perché vi ricordiamo che noi stiamo seguendo anche un po' la storia di Giuseppe, di Giuseppe il re dei sogni, che a questo punto della storia, dove siamo arrivati adesso, lo troviamo in prigione. Giuseppe viene messo in prigione, appunto, come dicevamo, per la vicenda della terza tappa, quindi del fatto che è stato accusato di aver tentato la moglie di Potiphar di unirsi a lui, quando in realtà è vittima di ingiustizia perché è stato il contrario, è stata lei che ha tentato lui, però lui viene accusato, perciò viene messo in prigione lui, ma lui accetta questa solitudine che è ingiusta, no? È vittima di ingiustizia e quindi lui si ritrova da solo in prigione e quindi padre Giovanni Marini, che appunto ci aveva fatto questo itinerario un po' su Giuseppe, di cui stiamo riprendendo un po' dei tratti per partire con le nostre riflessioni, ci diceva questa esperienza è quella in cui se ti affidi a Dio cresci in una grande fede e in una grande sapienza per interpretare i sogni altrui, che è appunto la storia di Giuseppe. Altrimenti slitti verso la depressione e il declino totale. In prigione Giuseppe interpreta i sogni dei due dignitari. Cosa succede quindi in questo episodio? Cioè che Giuseppe si trova in una situazione paradossalmente sfavorevole, cioè comunque non paradossalmente, cioè è una situazione sfavorevole, nel senso che lui è in prigione quindi non riesce diciamo a esprimere ciò che è lui, no? Cioè noi immaginiamo una situazione di prigionia, cioè proprio ti limito, ti metto lì, quindi a noi viene in mente un uccellino senza ali, cioè non posso mettere a disposizione quello che sono. In realtà lui dentro la prigione riesce con questi due dignitari a mettere comunque a servizio il suo dono, che è quello di interpretare i sogni. Interpreterà i due sogni di questi due dignitari, loro poi usciranno, lui rimarrà lì, lui chiederà aiuto a loro di dire quando sarai davanti al faraone che ti libererà e ricordati di me, in realtà poi loro si dimenticano, quindi questa cosa anche interessante è che lui comunque chiede una mano a quello che in quel momento sono due compagni diciamo di quel momento lì per lui, ma sono uomini come lui e loro pure si dimenticano, quindi lui viene comunque lasciato lì e perciò c'è un'ingiustizia ulteriore, cioè lui mette a disposizione un dono e aiuta altre persone, ma poi nessuno poi in realtà aiuta lui, ma lui in questa situazione resta figlio di Dio, lui resta fedele a quello che il Signore Dio gli ha comunicato, quindi lui mette a servizio un dono che riconosce non essere suo ma di Dio e aspetta di fatto la promessa di Dio, cioè lui aspetta che sia Dio stesso a liberarlo. Infatti lui rimane fedele ed è questa la forza di questo momento, perché lui da questo momento accettando quella solitudine e accogliendo comunque il dono ricevuto e mettendolo comunque a disposizione, lui è come se stesse già facendo quello che è chiamato a farci, perché se lui poi andrà a interpretare poi i sogni del Faraone, però questo lo vedremo appunto più avanti, cioè dopo lui avrà un futuro molto diverso, ma lui deve passare da questo momento per poi arrivare là, quindi Dio stesso permette questa solitudine ingiusta e lo riporta alla sua essenza, cioè come se gli sussurrasse all'orecchio, non temere, tu sei mio figlio, io ti ho presente, ti vedo, ti chiamo comunque a fidarti di me e ti chiamo comunque a mettere a disposizione quel dono che io ti ho dato per quelli che in quel momento sono i tuoi compagni, che sono appunto i due dignitari, in prigione con lui e tu non temere, non pensare, ah ma figurati, ma cioè proprio in questa situazione qui, ma no, ma potrebbe fare anche l'offeso, no? Dire, ma figurati, se ti arrangi, cioè guarda qui, mi hai abbandonato, mi hai abbandonato nell'ingiustizia, io figurati se adesso mi metto a fare quello che mi chiedi tu, no? Lui rimane invece fedele, in questa situazione sarà la salvezza per lui, è quello che dicevamo prima, accettando e accogliendo questa situazione paradossale, lui poi definisce, sta già definendo in realtà quello che sarà, resta fedele all'identità che il Signore gli ha dato, ma che ancora non può esprimere magari come ha pensato lui, oppure non ne vede ancora i potenziali e diciamo espliciti fuori, è tutto nascosto, diceva la Mary prima, è tutto in prigione, quindi lui non smette di confidare in Dio e fa il bene anche in prigione. Questo è un messaggio per ognuno di noi, cioè se noi siamo con Dio, siamo capaci di stare nel bene e di permanere nel bene, di perseverare nel bene, la perseveranza che era appunto l'elemento un po' delle tappe precedenti, riusciamo a starci se siamo con Dio in qualsiasi situazione, nonostante, chiaramente, magari siano situazioni difficili che magari il Signore non vuole per noi per tutta la vita, lo vuole per un passaggio, per un periodo, non è che ci chiama a star male, a stare in prigione tutta la vita, però ci sono situazioni che ci parlano di questa prigionia e ad esempio anche la pandemia abbiamo vissuto delle limitatezze che ci hanno fatto fare fatica, ci sono costate, però qual è stata la grazia nascosta? Saper vedere quel bene che ognuno di noi poteva fare anche in una situazione di limitatezza. La prigione quindi diventa quell'immagine che caratterizza questo preciso momento in cui siamo adesso, siamo entrati nell'inverno, quindi siamo verso la simbiosi, quindi quello entrare nel nido più profondo con quel padre che ci porta in braccio, nella gravidanza era con la madre appunto che ci porta in grembo, quindi siamo in questa discesa nel nido che in questo momento potrebbe essere anche una discesa negli inferi, perché comunque il carcere non è piacevole, è il letargo, è la natura che muore, gli animali che vanno a dormire, tutto ci parla quindi di un dentro, da fuori a dentro, quindi la prigione diventa simbolo di una situazione che ci sembra appunto sfavorevole, che ci limita, che ci vieta di fare tante cose che magari vorremmo pure fare, ma in realtà è una grazia. È un'occasione dove il Signore fa pulizia esterna in modo forzato, perché la scorsa tappa abbiamo parlato delle tentazioni, abbiamo parlato degli idoli, abbiamo parlato del fatto che per seguire il Signore bisogna eliminare il resto. Questa buona notizia qual è? Che con l'incarnazione, con il Natale, il Signore ci sta dicendo io ti vengo ulteriormente incontro, ti ho visto incapace, non ti abbandoni in mezzo alle tentazioni e poi ti dico vediamo se te la cavi, ti ho visto che fai fatica, ho visto che è un attimo che ti perdi, ho visto che è un attimo che segui un altro idolo e non me, sai cosa faccio? Ti vengo ulteriormente incontro. E infatti domani nella seconda lettura cosa ascoltiamo? Dio che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose mediante il quale ha fatto anche il mondo. Cioè cosa significa? Che con il figlio Dio ci viene ulteriormente incontro, ci dice io scendo ancora di più tra di voi, in te, con questo bambino io ti comunico che l'incarnazione è vengo ancora di più ad aiutarti e cosa faccio? Forzatamente ti tolgo tutto quello che non sono io, che non fa per te, ti metto in prigione, ti tolgo tutto, ti lascio dentro a quella che è la tua discesa più profonda negli inferi tuoi, negli tuoi abissi, ti lascio in una situazione che per te è un incubo, in realtà è un grande invito che ti faccio per dire ti sto aiutando, ti sto togliendo io tutto quello che non serve. Mettiti adesso all'opera, nel dono che sei, che io ti ho scritto dentro di te, nell'identità che io ti ho dato e metti a frutto adesso quello che sei, inizia già adesso perché così tu potrai vedere quella luce che sarà quella luce finale, adesso tu puoi vedere già un pezzettino di quello che sarai, però ti devo far passare di qui perché sei limitato, sei debole, sei fragile, potresti seguire qualcun altro da un momento all'altro, allora io ti tolgo tutto. Quindi è una chiusura di questo primo trimestre che apre il secondo, cioè questa quarta tappa fa da passaggio, fa da ponte, è il momento dove viene annunciato il tuo nome da Dio, la tua identità, il progetto che Lui ha su di te, ti viene sussurrato già adesso quello che però arriverà tra sei mesi, quindi devi ancora aspettare. Per questo momento, arriviamo qui al punto, è il momento più difficile questo, è il momento della prova, è la prova del nome della fede, no? Fede, speranza e carità sono le tre virtù teologali. Lo Spirito Santo ci ha suggerito che potevano essere tre ulteriori aggettivi, diciamo, da mettere ai nostri tre trimestri, cioè la fede caratterizzava questo primo trimestre, abbiamo parlato della vedova che con fede, no? E insistente chiede al padre, abbiamo parlato, grazie Gemma, abbiamo parlato appunto della fede in vari punti in questo primo trimestre, ecco qui è come se ci fosse il sigillo, una fede che è una fede che chiede tutto, che chiede di lasciare la paura appunto per questa fede e è una fede che ti lancia verso la speranza, c'è la speranza contro ogni speranza. Anche Giuseppe quindi non ha smesso di sperare, non ha smesso di avere fede in questo Dio e quindi qui si apre alla speranza, cioè lui dice io vedo che questo è un dono, lo metto a disposizione pure con questi due fannulloni che sono qua con me, io ho speranza che il Signore mi libererà e infatti poi succederà. Questa tappa è iniziata con il battesimo di Gemma l'11 dicembre, che infatti là era la domenica caratterizzante appunto di questa tappa e vi abbiamo un po' raccontato tutto nell'episodio di Lascia la tua palude del podcast e culminerà col battesimo di Gesù. Quindi abbiamo battesimo e battesimo, battesimo della Gemma che è un po' il nostro esempio di questo percorso, che siamo un po' noi, e culminerà col battesimo di Gesù. Cosa vuol dire? Battesimo e battesimo inizio e fine, alfa e omega, cioè tu parti dal battesimo perché è uno dei tre sacramenti dell'iniziazione ma in realtà il battesimo ci parla anche già della fine perché il battesimo è entro nel popolo di Dio, entro nel corpo di Cristo, entro a fare parte attiva, membra attiva di questo corpo. Quindi è un po' il simbolo di questo inizio e questo fine mescolate. È il Vangelo di domani, in principio era il verbo, il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Inizio e fine. Il battesimo. Cos'è sto battesimo, no? Che diciamo sempre nel battesimo diventiamo sacerdoti, re e profeti. È la porta d'ingresso della vita cristiana, è il primo passo dentro il popolo dei figli di Dio. Ma alla fine, cioè, cosa ci serve sto battesimo? Il fine di tutta la struttura sacramentale della Chiesa è ordinato alla chiamata universale alla santità. Santità mediante la quale i fedeli esercitano eminentemente il loro sacerdozio battesimale. Lumen gentium 10. Da parte sua il ruolo del sacerdozio ministeriale di permettere ai battezzati di offrirsi pienamente le loro persone e i loro corpi come ostia vivente, santa e gradita a Dio. C'è scritto in Romani 12, 1. Quindi, in sostanza, è la porta d'ingresso alla nostra vocazione. Il primo passo per fare poma nella vita eterna, nella santità. Perché il fine ultimo nostro, di cristiani, di figli di Dio, di creature, è di essere santi e beati in parasiso con il nostro papà, con Dio. Quindi, recuperando la nostra identità, noi andiamo a capire veramente cosa siamo chiamati, qual è il fine della nostra vita. E mediante l'offerta del nostro cuore, della nostra vita, si compie nel grado più alto il mistero della carità, comunione nell'amore tra Dio e l'uomo. La perfezione e la pienezza di questa offerta si chiamano santità. E questa è la vocazione di ogni battezzato, come ci ricorda anche il concilio. Allora, quello che noi adesso stiamo andando a fare è una grandissima rilettura di ciò che è accaduto fino ad adesso, mettendo un punto fermo su ciò che siamo, su chi siamo, sulla nostra identità, su chi ci può dire realmente e veramente chi siamo, per vedere, per scorgere le vette alte che ci aspettano, per guardare da lontano qual è la nostra meta. La vediamo già, la stiamo già un po' assaporando perché ne veniamo a conoscenza, perché abbiamo trovato la nostra identità. Questo è il passaggio che noi dobbiamo fare. E in questo ci viene in aiuto Giuseppe. Non Giuseppe, re dei sogni, ma Giuseppe, il papà di Gesù, il papà terreno di Gesù, lo sposo di Maria. Domenica abbiamo sentito, domenica scorsa abbiamo sentito la sua storia, no? E a me la prima cosa che ha colpito in assoluto di Giuseppe è che a differenza di Maria lui tace. Sì, è vero, l'angelo gli compare in sogno, ma Giuseppe resta in una forma di totale ascolto. Giuseppe è l'uomo della fede. Mentre Maria esprime le proprie paure, le proprie domande e poi accoglie, quindi si fa dono per Dio, ha ben presente la propria natura di creatura e aderisce completamente alla volontà di Dio, Giuseppe sta in silenzio, il silenzio della fede, il silenzio dell'ascolto profondo di Dio. Ecco, noi siamo chiamati in questo momento a fare questo passaggio, restare in ascolto profondo di Dio, facendo silenzio rispetto a tutto quello che c'è intorno. Ma mi spiego meglio, cioè Giuseppe riceve questo messaggio dell'angelo e non fa una piega, capisce qual è la volontà di Dio nella sua vita, capisce cosa gli sta chiedendo Dio in quel momento e con fede va avanti. E io mi sono detta, cavoli, ma Maria e Giuseppe, non è che è stato facile per loro, no? Hanno accolto il figlio di Dio nella loro famiglia il modo di amare, lo stile di amare di Dio che ha generato il loro, il Salvatore, Gesù Cristo. Ma se guardiamo al di là di questo nucleo, no? Di questo piccolo, di questo piccolo nido, di questa piccola casa all'interno della quale l'amore di due sposi fa nascere, fa incarnare, fa fruttare l'amore di Dio tramite la venuta di Gesù, vediamo come Maria e Giuseppe all'interno della società e all'interno del loro paese vengono totalmente, anche un po' allontanati, abbandonati, lasciati soli, cioè erano i due strani. Parliamoci chiaro, questi due sono due strani, sono pure un po' pazzi. Quindi oggi diremmo che forse ci sarebbe bisogno di internarli un pochino, di farli andare da uno psichiatra, da uno psicologo, perché, scusami, questa dice di aver concepito il figlio di Dio e di essere vergine, quindi di non conoscere uomo, ma che lo Spirito Santo l'ha fecondata e che lei aspetta il Salvatore. Questo qua dice che gli è apparso un angelo in sogno e di non preoccuparsi perché è vera questa cosa. Quindi questi due non si capisce come, non si capisce perché, aspettano un bambino e hanno fatto tutto al contrario, tutta alla rovescia, cioè, non so voi cosa avreste detto davanti a una coppia che dice una roba del genere, no? Considerando che a quel tempo Maria minimo minimo doveva essere lapidata, minimo, e Giuseppe per legge avrebbe dovuto ripudiarla, quindi lui avrebbe dovuto alzare le mani e dire, oh, lo dice la legge, oh, io non posso fare niente. Invece lui con estrema tenerezza e con immensa fede, l'uomo veramente giusto, accoglie la chiamata di Dio, la situazione che Dio gli ha messo davanti nella sua vita e ne fa un dono d'amore. Mi spiego meglio. Per accogliere l'incarnazione di Gesù, Maria e Giuseppe, la prima cosa che hanno dovuto imparare è accogliere la croce. Ed è stato da questa accoglienza della croce che Gesù ha imparato a offrirsi come dono d'amore per il mondo, come ostia sacrificale, perché l'ha visto fare in famiglia i suoi genitori per accoglierlo, per accudirlo, per amarlo, per farlo crescere, per dargli quello di cui lui avrebbe avuto bisogno per compiere la sua missione nel mondo, hanno abbracciato la croce, hanno abbracciato l'incomprensione del mondo davanti ad un amore così inspiegabile e così grande. Non so se mi sto spiegando appunto. Hanno fatto un passo in mane nella fede in Dio, abbracciando questa croce, coltivandola, portandola sulle spalle con gioia. Perché? Perché l'amore di Dio era immensamente più grande. La ricompensa che loro ricevevano già in quel momento nell'incarazione del figlio di Dio nella loro famiglia era ampiamente più grande rispetto al contorno di difficoltà, di solitudine, di maldicenze che si era creato. Loro ne hanno fatto motivo di un amore più grande, non solo per sé, ma anche per il mondo. Perché Gesù, le prime persone per cui è morto, per cui ha donato la vita, per cui ha sposato la croce, sono state proprio le persone che non lo capivano, che sparlavano di lui, dei suoi genitori, che lo ritenevano addirittura un bestemmiatore. Cioè, è grazie a questo amore accogliente, a questa fede granitica, che Gesù arriva a dire sulla croce, Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, ma voi potete capire e immaginare un amore così grande? Cioè, ma voi con i vostri nemici, con le persone che vi fanno stare male, che vi fanno mettere la lama del coltello nella piaga, ma voi riuscite a farla questa roba qua? Ecco, il punto di questa tappa è arrivare a dire no, non ci riesco. Se non ho la grazia di Dio, non ce la posso fare. Non ce la posso fare a fare questa roba immensa, e questa è la più grande e meravigliosa notizia della nostra vita, perché grazie a questa notizia noi capiamo che siamo totalmente dipendenti dall'amore di Dio e questo ci libera, questo ci salva, ci salva da noi stessi, dalle nostre gabbie, dal nostro essere, noi i fautori del giusto, dello sbagliato, dell'amore, del non amore. No, perché qui c'è un amore che vince ogni limite, ogni ostacolo, tutto. Un amore che si fa carne e che è una carne che arriva a sanguinare per dimostrarti quanto è grande. Quindi, in sostanza, quello che siamo chiamati a fare in questo momento è prendere consapevolezza profonda del nostro peccato originale, ma fare un passo in più anche, perché ormai il nostro peccato l'abbiamo visto, l'abbiamo proprio assaporato in tutta la sua amarezza. Renderci conto che noi non vogliamo dipendere, non vogliamo dipendere dall'amore di Dio e diventiamo gabbie di noi stessi, ci ripieghiamo totalmente su di noi e sul nostro ombelico e non riusciamo a dare una risposta libera e vera all'amore. Invece, quello che siamo chiamati a fare nella nostra vita è proprio questo, rispondere liberamente al dono che Dio fa di sé stesso nel dono di di sé stesso. È questo che rende veramente la nostra vita una vita di sostanza, una sostanza d'amore, di gioia. È questo che rende il gioco leggero, il gioco dolce. È proprio questa tenerezza d'amore che Dio ci dona davanti al nostro abisso di nullità, davanti al fatto che noi, questo amore così grande, non lo riusciamo a incarnare, se non è Dio che ci ha la grazia di farlo. Ecco, Giuseppe viene nella nostra vita per insegnarci questo. Maria ci insegna l'offerta totale del cuore, l'offerta totale di sé, del suo corpo per incarnare il figlio di Dio. Giuseppe ci insegna il silenzio granittico della fede, l'umiltà di stare nella volontà di Dio, anche quando questa non è secondo i nostri piani, cioè sempre. Quindi quando questa ci porta delle sofferenze, ci porta delle solitudini. Ed è questo che genera in noi, pian piano, l'abbraccio alla croce. E quindi vedete come, non so se mi sono spiegata, non so se ce l'ho fatta, però, l'incarnazione e la croce sono essenzialmente strettamente legate e che addirittura non è possibile incarnare Dio, Gesù bambino, nella nostra vita in maniera totale, profonda, completa, piena, se non abbracciamo anche la croce. E cos'è questa croce? La croce è che l'amore di Dio è scandalo per il mondo, che l'amore di Dio è totalmente contrario a quello che il buonsenso comune del mondo ci vuol far credere come buono e bello e bravo. No, non è così. Il giusto è un altro. Amare totalmente fino alla fine non significa solamente caricarsi delle conseguenze della propria scelta, no? Quindi a volte noi pensiamo che faccio una scelta e poi me ne prendo le conseguenze, che sembra un po' una punizione. No, no, è molto di più. Cioè dire do la vita per questa scelta e quindi non è che mi carico delle conseguenze perché io sono un duro, ma abbraccio così tanto con amore questa scelta da donare totalmente la mia vita per questa cosa che tutto ciò che ci sta intorno diventa un corollario, diventa qualcosa che io abbraccio insieme alla scelta che faccio. E questo è il segreto del gioco leggero, la grazia di amare fino alla fine donando la vita. Questo copre una moltitudine di peccati, questo rende dolce ciò che normalmente con la nostra mente umana ci sembra amaro, ci sembra un dovere, ci sembra una conseguenza, quasi una punizione. Vi dicevamo all'inizio che noi siamo appunto un po' spariti, no? In questo periodo, in queste ultime due settimane. Infatti dal giorno dopo il battesimo, quindi il 12 dicembre, proprio come se il Signore avessero detto benissimo, appena entrati nella quarta tappa io vi metto subito questa situazione e è iniziato veramente un periodo per noi molto difficile perché siamo passati in mezzo all'influenza tutti quanti, però è stato tutto il contorno, nel senso che questa influenza è stata particolarmente forte anche per noi, ci ha veramente devastato, è stato un colpo proprio grosso per tutti, però al di là di quello c'è stato proprio il messaggio dietro, che è stato tutto questo che la Mary vi ha appena raccontato, cioè dentro una situazione dove eravamo costretti a stare a casa, i bimbi non potevano andare a scuola, c'era sempre brutto fuori, quindi in casa ci sembrava di tornare veramente un po' alla situazione dei lockdown più pessimi del covid, però ci ha fatto fare il punto su questo discorso qui della prigione e della croce, cioè è come se il Signore ci avesse detto entrate, vi voglio far proprio entrare in realtà nell'essenza di questa quarta tappa, cioè nel momento in cui ci siamo ricordati di Giuseppe in prigione e di dove eravamo a livello del percorso abbiamo detto in realtà è la situazione favorevole, cioè la situazione sfavorevole apparentemente che vi raccontavo all'inizio di Giuseppe, anche per noi in realtà era una situazione molto sfavorevole, abbiamo fatto una fatica a cane e il Signore ci ha messo davanti alla nostra nullità, alla nostra incapacità di amare gratis, di essere proprio nella carità, allora lì ci ha messo davanti proprio al tu da solo, non puoi fare niente. Quindi tutto quello che la Mary vi ha raccontato è stato proprio il sunto di quello che noi ci portiamo a casa da questi 10-15 giorni e il nostro essere quindi in silenzio, non pubblicare praticamente niente e il non farci sentire in realtà è stata un'occasione per noi per dire dobbiamo fare questo in questo momento, siamo chiamati, siamo forzatamente obbligati a stare dentro di noi, a stare nel nostro nido, a stare a contatto con i nostri figli, a rispondere ai bisogni di ognuno che in questo momento a livello di salute erano i principali ma dopo da lì come sapete anche voi a cascata arrivano tutti gli altri quindi è stata una fatica cane, ogni giorno ce n'era una e sembrava che non finisse mai e arriviamo qui alla vigilia affaticati, stanchi e con tanta rabbia, tanto da confessare, tanto da dire oh ma signore ma bella preparazione del Natale questa, cioè proprio ci sentiamo veramente in realtà pessimi su tantissimi punti di vista e allora è lì che invece il mistero dell'incarnazione viene a dirci perfetto, situazione ottima, situazione favorevole per dire il tuo augurio per il tuo santo Natale è proprio questo, celebra questa incarnazione dentro di te, tu hai bisogno di questa incarnazione, tu hai bisogno di un bambino che nasce dentro di te e che è il salvatore, che ti fa capire che tu col tuo solo corpo, con la tua sola carne non ce la fai e allora viene un altro corpo, viene un'altra carne che si fa bambino ed è Gesù Cristo e ti salva e ti insegna ad essere figlio, quindi in sostanza siediti Dio esiste ma non sei tu, lascialo venire e allora in questo deserto, in questa prigione, in questa situazione faticosa dobbiamo, siamo chiamati a celebrare questo mistero del Natale dobbiamo rimanere attaccati alle letture di domenica 11 dicembre che erano appunto quelle delle, di quando abbiamo attenzato la Gemma, che sono quelle che avevamo scelto per questa quarta tappa, si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo, le è data la gloria del Libano, lo splendore del carmelo di Saron, essi vedranno la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio, irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dita gli smariti di cuore, coraggio non temete, ecco il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa, su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo, felicità perenne, splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno, fuggiranno tristezza e pianto. E nella lettera a San Giacomo siate costanti fratelli miei fino alla venuta del Signore e nel Vangelo Gesù pone tre domande. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ebbene che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Cioè Gesù come se alla fine di ogni primo trimestre ci chiedesse allora cosa sei andato a vedere? Cioè ci ricorda dov'è la nostra meta? Cosa sei andato a vedere? Il tuo Natale cos'è? Chi stai guardando? Cosa stai andando a vedere? Gesù che nasce? Il mistero dell'incarnazione o stai guardando a qualcun altro? Stai guardando a qualcos'altro? Questo è il punto. Perciò tutte queste situazioni sfavorevoli ci devono portare all'essenza che è il Natale. Il nostro augurio perciò è quello di chiedere nella preghiera questa sapienza, la sapienza dell'interprete, la sapienza di stare dentro al tuo dono, di poter lasciarti interpretare da Dio il sogno che hai dentro tu per poter poi diventare interprete degli altri. Giuseppe prima di mettere a disposizione questo dono addirittura al faraone e poi arrivare dove è arrivato ha dovuto prima lasciarsi interpretare i suoi sogni dal Signore. È il Dio che adesso ti chiama per nome, è Dio che sa cosa ha scritto dentro di te, è Dio che ti ha dato l'identità, lui interpreta chi sei e te lo dice, ti lascia nella solitudine per poi andare fuori. Il nostro dono diceva, citando un teologo, solo che è capace di vera solitudine è capace poi di vera comunione, cioè tu puoi stare in mezzo agli altri e aiutare anche gli altri solamente se sei capace di stare con te, perché è in te che Gesù vuole nascere domani, il Natale è dentro di te. Allora anche tu sei nella solitudine, anche tu ti senti nell'abbandonato, nell'ingiustizia, tutti ti abbandonano, anche chi prima ti appoggiava adesso non lo fa più, ha iniziato questo percorso, magari la gente adesso ti guarda male, non capisce cosa stai facendo, non capisce che ti stai veramente impegnando all'incontro col Signore, sei nel deserto della sequela, sei in questa solitudine ingiusta che ha vissuto anche Giuseppe, ecco, questa è l'occasione perfetta per metterti in ascolto di quel Salvatore che viene, quell'ascolto di cui ci ha parlato la Mary rispetto a Giuseppe, il papà di Gesù. Sta per nascere, viene per te, viene dentro di te, però lo devi lasciare entrare e allora questo ti farà canale per gli altri, ti farà colui che prepara la via agli altri come Giovanni Battista, che Giovanni Battista chiuderà, infatti vi ricordiamo, il percorso a giugno, perché ci ricorda che questi nove mesi non servono a nulla, se non sono dono per gli altri, se non sono che tu apri la strada agli altri, ma prima te la devi lasciare aprire per te. Quindi vi auguriamo un Santo Natale, il regalo più bello è Gesù, scartatelo. Un abbraccio grande, ci aggiorniamo e ci sentiamo in queste feste, in queste vacanze, diciamo. Vi ringraziamo immensamente per tutta la provvidenza sperticata che ci state facendo arrivare, è commovente vedere come Dio tramite voi ci manda avanti, quindi continuate a farci sentire il vostro amore e potete farlo alla pagina Aiutaci del nostro blog, del nostro sito www.uncorpoamiedato.com e un Santo Natale dentro di te. Ciao. Grazie di essere stato con noi, se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato, trovi tutti i link in descrizione. A presto! Grazie a tutti!